Ridurre il dolore al tunnel carpale con 5 rimedi naturali. È importante tenere presente che questi rimedi ci aiuteranno solo ad alleviare temporaneamente il dolore del tunnel carpale e che dobbiamo rivolgerci al medico per ottenere una diagnosi e un trattamento adeguati. Ridurre il dolore al tunnel carpale vuol dire ridurre un intenso fastidio che si presenta a causa dell'irritazione del nervo mediano, che ha il compito di dare sensibilità e movimento a certe aree della mano. I casi di sindrome del tunnel carpale sono aumentati negli ultimi anni, in quanto uno dei suoi fattori scatenanti è l'uso degli apparecchi elettronici. Di solito si verifica a causa di movimenti ripetitivi della mano e del polso, ma si presenta anche a causa di lesioni, infezioni e sovrappeso. Sebbene la sensazione di dolore possa essere lieve e sporadico, alcune volte tende a complicarsi impedendo di realizzare le attività quotidiane. Solo un numero ridotto di casi richiede l'intervento chirurgico, posto che si produce una reazione infiammatoria che non può essere controllata con i farmaci. Fortunatamente, prima di ricorrere a una misura talmente drastica, si possono provare alcuni rimedi di origine naturale che, grazie alle loro proprietà, aiutano a ridurre il dolore al tunnel carpale. A seguire condividiamo nel dettaglio i 5 rimedi migliori a tale scopo, affinché non esitiate a metterli in pratica per combattere tale condizione. Scopriteli insieme a noi. Rimedi naturali per ridurre il dolore al tunnel carpale 1. Impacchi di zenzero ed eucalipto. L'applicazione di impacchi di zenzero ed eucalipto è un metodo terapeutico che aiuta a ridurre il dolore al tunnel carpale e l'infiammazione. Le sue proprietà medicinali migliorano la circolazione nella zona interessata e generano un effetto calmante. Ingredienti 1 tazza d'acqua, 250 ml, 2 cucchiaio di zenzero grattugiato, 20 g, 4 foglie di eucalipto Preparazione Fate bollire una tazza d'acqua e, una volta giunta a ebollizione, aggiungete lo zenzero grattugiato e le foglie di eucalipto. Abbassate il fuoco e lasciate che le piante sprigionino i propri estratti per circa 2 minuti. Successivamente fate riposare dai 10 ai 15 minuti e procedete ad utilizzarlo. Modo d'uso Immergete un panno pulito nell'infuso e applicatelo come un impacco sui polsi e sulle mani rigide. Lasciate agire per circa 20 minuti e applicate il trattamento fino a 2 volte al giorno. 2. Massaggi con olio di cipresso e rosmarino Un massaggio con olio antinfiammatori può calmare la sensazione di dolore che impedisce di muovere con normalità le mani. In questo caso proponiamo gli oli di cipresso e rosmarino, entrambi capaci di ridurre l'infiammazione dei muscoli e delle articolazioni. Ingredienti 3 cucchiai di olio di cipresso, 45 g, 2 cucchiai di olio di rosmarino, 30 g. Preparazione Mescolate gli oli fino a ottenere un composto omogeneo. Modo d'uso Strofinate gli oli sulle zone doloranti tramite delicati massaggi finché il prodotto non viene assorbito del tutto. Ripetete l'applicazione tutte le sere fino a completa guarigione. 3. Impacchi con fiori di olmaria I fiori di olmaria possiedono proprietà analgesiche e antinfiammatorie, idonee per ridurre il dolore al tunnel carpale. Possono essere applicati tramite impacchi, in quanto si tratta di un metodo che genera un immediato effetto calmante. Ingredienti 2 cucchiai di fiori di olmaria, 20 g, 1 tazza d'acqua, 250 ml. Preparazione Aggiungete i fiori di olmaria in una tazza d'acqua bollente e lasciateli riposare per circa 20 minuti. Modo d'uso Inumidite un panno con l'infuso e applicatelo sulla zona da trattare. Lasciate agire per 10 minuti e, se lo considerate opportuno, applicatelo fino a due volte al giorno. 4. Bagno con sali di Epsom Una delle applicazioni terapeutiche dei sali di Epsom è finalizzata a calmare il dolore causato dalla sindrome del tunnel carpale. Agiscono come un rilassante muscolare e antinfiammatorio che, a livello locale, riduce la rigidità, il formicolio e le difficoltà di movimento. Ingredienti 5 tazze d'acqua, 1250 ml, 1 barra 2 tazza di sali di Epsom, 100 g. Preparazione Riscaldate le tazze d'acqua fino a raggiungere una temperatura sopportabile per la pelle. Aggiungete i sali di Epsom e mescolateli affinché si diluiscano. Modo d'uso Immergete le mani nel liquido, assicurandovi di ricoprire i polsi doloranti. Lasciate che i sali agiscano per circa 20 minuti e risciacquate. Usateli fino a due volte al giorno per tenere sotto controllo il problema. 5 Massaggi con olio di ricino e d'oliva Sia l'olio di ricino che quello d'oliva possiedono composti antinfiammatori che aiutano a recuperare il normale movimento dei polsi. I loro acidi grassi, insieme agli antiossidanti e agli amminoacidi, migliorano il passaggio del sangue nella zona infiammata e permettono di ridurre il dolore al tunnel carpale. Ingredienti 3 cucchiai di olio di ricino, 45 g, 2 cucchiai di olio d'oliva, 32 g. Preparazione Versate gli oli in un recipiente resistente al calore e metteteli nel microonde per circa 20 secondi. Modo d'uso Verificate che la temperatura sia adeguata alla pelle e poi strofinate l'olio sui polsi e sulle mani. Realizzate delicati massaggi per circa 8 minuti e lasciate che i prodotti vengano assorbiti per bene. Ripetete il trattamento fino a completa guarigione. Tenete presente che i rimedi menzionati possono ridurre il dolore al tunnel carpale solo temporaneamente. Il processo di recupero può impiegare fino a un mese e, per questo, è necessario integrare l'uso di questi prodotti con la pratica di abitudini sane come l'esercizio.